Si è conclusa la seduta del Consiglio Comunale di Napoli, durata due giorni e trasmessa integralmente in diretta su internet dall'ufficio stampa del Comune. Il primo nodo ad essere stato sciolto già ieri riguardava il patrimonio immobiliare dell'ente. A partire dal 15 dicembre prossimo e almeno fino a giugno, ad occuparsene sarà la Napoli Servizi, la società partecipata del Comune di Napoli. Si tratterà di un affiancamento agli uffici comunali a partire dalla scadenza dell'appalto con la società Romeo, alla quale pertanto non sarà prorogata la gestione in corso. Stamattina invece è stata discussa ed approvata la manovra di bilancio ed è stato dato il via libera alla redazione del progetto di fusione delle società di trasporti TPL, ANM e Metronapoli attraverso una holding operativa con capogruppo Napoli Park. Oggi le partecipate così come sono strutturate, così come sono organizzate, non vanno bene, non possono essere in linea con un piano di riequilibrio pluriannale così come ce lo chiede oggi il Governo centrale. Quindi noi attraverso questo piano di riassetto generale avremo la possibilità di avere un forte risparmio sulle casse del Comunale per poter poi liberare risorse per raddrizzare finalmente l'amministrazione comunale. L'ultimo atteso provvedimento riguardava l'adesione del Comune al piano di riequilibrio proposto dal Governo, il cosiddetto Salva Comuni, che sarà approvato definitivamente dal Parlamento martedì prossimo ed assegnerà a Napoli 300 milioni di euro con la possibilità di ripianare il disavanzo in dieci anni. Dopo le numerose iniziative pubbliche ed istituzionali che hanno visto l'amministrazione comunale reclamare sostanziali modifiche al precedente testo del decreto, è stato accolto infatti in Commissione Bilancio l'emendamento che modifica l'importo da 200 a 300 euro per abitante. Questo emendamento va nella direzione da noi auspicata, quindi abbiamo la possibilità di lavorare a un piano di riequilibrio che abbiamo oggi portato come proposta di adesione assieme anche agli altri documenti contabili che sono l'assistato.